Aveva fatto una scelta lavorativa e di vita ben precisa Andrea Borgogelli, di 41 anni non ancora compiuti, tragicamente deceduto ieri pomeriggio nel rogo della sua auto lungo l'A14 all'altezza di Misano. Una scelta lavorativa che gli consentisse di stare più vicino alle sue due figlie gemelle di appena tre anni, rinunciando al suo storico lavoro di addetto alle vendite in uno store di elettrodomestici nella galleria della Ocean, per lavorare da casa, praticamente, per un colosso mondiale dell'e-commerce, ma purtroppo la vita gli ha negato questa possibilità. Ieri pomeriggio Andrea era in autostrada, probabilmente di rientro da una riunione di lavoro alla quale ogni tanto partecipava, quando la sua auto, una Volkswagen New Beetle Maggiolino Cabriolet Diesel, si è trasformata in un tizzone infuocato, poco dopo la galleria di Scacciano. I testimoni oculari non riditi hanno detto agli agenti dell'autostradale che improvvisamente dall'auto si è spirigionata una fiammata alta, come un'esplosione, ed in pochi minuti la capottina in tela dell'auto si è trasformata in una torcia. Andrea è rimasto intrappolato nell'abitacolo, ha avuto la forza ma la pena di deviare verso la corsia di emergenza, ma le fiamme ed il fumo lo hanno rapidamente sopraffatto. È rimasto lì, con le citure allacciate dove lo hanno trovato i vigili del fuoco una volta spente le fiamme. Ora saranno le indagini della polizia e dei tecnici dei vigili del fuoco a dover far luce sull'origine delle fiamme. Cortocircuito, avaria al motore o altro. L'auto, ora sotto sequestro su disposizione del magistrato, era nuova, in ottime condizioni. Si dovrà capire il perché di questa morte assurda. Incredulità e sgomento e occhi lucidi questa mattina anche tra i suoi colleghi e compagni di lavoro, con i quali ha condiviso 15 anni insieme tra televisori, stereo, pc ed elettrodomestici ed anche vita vissuta al di fuori del lavoro, perché con Andrea ci dicono era difficile non andare d'accordo, sempre misurato, calmo, con i suoi ritmi, dalla compagnia piacevole e professionale, con i clienti e punto di riferimento per i colleghi. Quando ha scelto di andare via per stare di più con la sua famiglia, per noi è stata una grave perdita, lavorativamente parlando. Uno come lui si fa fatica a trovare ed umanamente un impoverimento. La sua assenza si è sentita pesantemente, ci ha detto Luca De Chirico, il direttore del punto vendita dove Andrea lavorava. Andrea però, oltre alle sue due gemelline, lascia la compagna Simona, con la quale conviveva, ed i genitori. Per i funerali si dovrà attendere il nulla osto della procura di Rimine dopo l'esame autoptico sulla salma disposta dal magistrato.